direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di super enalotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del super enalotto oggi sabato 20 gennaio jackpot ha raggiunto la cifra di 48 milioni 609 mila 856 euro 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo ora il via all'estrazione del concorso numero 11 inizia il mescolamento automatico delle sfere stiamo per scoprire se i numeri vincenti per il numero jolly tenete strette le vostre ricevute è in arrivo il primo numero primo numero estratto è il numero 63 siamo al secondo numero con super enalotto e finita già a vincere secondo numero estratto è il numero 71 terzo numero sta arrivando terzo numero estratto è il numero 58 pronti per il quarto numero? quarto numero estratto è il numero 56 e adesso scopriamo il quinto numero che tra le porte alle grandi vincite quinto numero estratto è il numero 19 è il momento di incrociare le dita stiamo per completare la sestina vincente sesto numero estratto è il numero 2 dopo i 6 numeri che assegnano il gecko passiamo ora l'estrazione del numero jolly vi ricordo che indovinando questo numero insieme a 5 i numeri della sestina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 di 1 il numero jolly di questa sera è il numero 22 controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione e il numero jolly 63, 71, 58, 56, 19, 2 numero jolly 22 e ora passiamo al numero superstar superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90 procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre superstar moltiplica le vincite super una lotta fino a 100 volte premia anche lo 0 e l'1 le sfere stanno ruotando nell'urna pronti? il numero superstar di questa sera è il numero 14 ricontrolliamo insieme tutti i numeri estratti del concorso numero 11 con la sestina vincente in ordine crescente 2 19 56 58 63 71 numero jolly 22 superstar 14 l'estrazione di oggi sabato 20 gennaio termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate ci rivediamo fra poco per scoprire se il jackpot di oltre 48 milioni 600 mila euro è stato centrato da qualche fortunato giocatore ben ritrovati poco fa vi ho mostrato i numeri vincenti del concorso numero 11 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? questa estrazione del super unalotto assegna 485.919 vincite vi ricordo che il jackpot in pali è di oltre 48 milioni 600 mila euro sarà stato centrato il 6? questa sera il 6 di super unalotto non è stato realizzato e il jackpot cresce ancora per arrivare a 49 milioni 500 mila euro vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote nessun 6, nessun 5 più 1, nessun 5 i 4 sono 653 e vincono 482 euro ciascuno i 3 sono 26.197 e vincono 28 euro ciascuno i 2 sono 412.596 e vincono 5 euro ciascuno ed in questo concorso sono state assegnate ben 250.661 vincite immediate winbox scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar nessun 5 stella i 4 stella sono 4 e vincono 48.208 euro ciascuno i 3 stella sono 140 e vincono 2839 euro ciascuno 100 euro vanno ai 2.208 2 stella 10 euro e 14.057 1 stella e 5 euro e 30.064 0 stella inoltre 120 vincite da 50 euro ciascuna e 18.089 vincite da 3 euro ciascuna sono assegnate le combinazioni non vincenti vi ricordiamo che è possibile verificare l'esito delle proprie giocate in modo facile e veloce anche con l'app superanalotto l'app è disponibile per tutti i dispositivi per maggiore informazione consultate il sito superanalotto.it vi ringrazio per essere stati con noi superanalotto vi dà appuntamento a martedì 23 gennaio e giocheremo per un jackpot di 49.500.000 euro arrivederci e vi ringrazio per l'appuntamento a martedì 23 gennaio